E' molto tinta anni di lavoro per cercare di armonizzare, d'altra parte la difesa personale ci vuole tanti anni, fanno rigare i corsi di due mesi, tre mesi, due anni, tre anni, fatti di difesa personale, fanno bene a chi li fa, nel senso che li fanno guadagnare qualche dia, ma chi li fa, chi li giudisce, impara poco e si illude di saper difendere, per difendersi bisogna fare la tecnica di agente come il portiere, come la portiere, anche se abbiamo le ocche chiusi, arriva alla bocca, pesca il salone e lo portano anche alla bocca, quindi deve essere un gesto spontaneo, in alto, perché potrebbe essere un gesto spontaneo, qualche gesto a un impatto così, quello di quanto voi dici, ma questo posso fare qualcosa, magari cerca di portiere forte e la volta che davvero la prende l'acqua, quindi cercate di ricercate, come tutte cose, come tutte cose le cose nella casa, ci vuole serietà, ci vuole massima serietà, massimo sacrificio, per cercar di arrivare al qualche risultato. Grazie a tutti.